Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento che potete seguire su blog sicilia.it, sulla pagina facebook di blog sicilia.it e anche sul segnale digitale il 14esimo canale del digitale terrestre in Sicilia, il segnale di videoregione. Oggi partiamo per terre lontane, partiamo con una giornalista siciliana che non è la prima volta che si avventura in vicende torbide, complicate e drammatiche e per questo motivo do il benvenuto, l'ennesimo benvenuto a Marina Pubella. Marina grazie di dedicarci nuovamente il tuo tempo. Grazie a voi. Marina, chi segue Talk Sicilia sa che proprio qualche mese fa è tornata dall'Ucraina ed è venuta ai nostri studi per raccontarci quello che accadeva al confine, è andata con un'organizzazione umanitaria per vedere come funziona la macchina dei soccorsi per le popolazioni ucraine, è stata a Odessa, in quella provincia, Nicolaia, che è ancora contesa. Siccome Marina è una delle poche giornaliste che fa vivere il fuoco della passione, ardente della ricerca giornalistica, stressata, anche non tenendo in conto la propria sicurezza, Marina ovviamente non poteva esimersi da regarsi in Siria. Sì, è una cosa che avrei voluto fare già da tempo. Però diciamo Siria questa volta si è andata a visitarla subito dopo il terremoto. Sì esattamente, ma l'ho fatto semplicemente perché l'ho sentito come un dovere nei confronti dei miei amici, perché io ho tantissimi amici in Siria. Per chi ci segue, non è la prima volta che Marina Pupella è giornalista, corrispondente dell'Avvenire e di altre testate internazionali. No, più che corrispondente. No, è corrispondente, insomma, collaboratrice. È collaboratrice, ecco, perché lavoro come freelance. Vabbè, dico, nessuno si arrabbia, perché insomma, non si arrabbia nessuno. Sei una freelance, ma la tua firma è su siti internazionali, siti nazionali, è sul quotidiano l'Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale, insomma, è una firma prestigiosa, su una testata altrettanto prestigiosa, diciamo, i ruoli poi alla fine contano poco, contano le cose che si fanno, no? Non è la prima volta che vai in quelle zone, tu sei stata in Kurdistan, hai creato… Nel Kurdistan del nord, proprio, quindi al confine turcosino. La cosa che è un po' impressiona, che insomma, è per questo, diciamo, io ci tenevo a dirti qui come ospite a Torco Sicilia, è che la notizia che è stata data è terremoto in Turchia. Esattamente. Cioè, come se la Siria, come dire, non contasse, fosse un appendice scomodo da dimenticare, da mettere margini, tu sei stata, come dire, hai attraversato quella zona, sei arrivata lì con un'organizzazione umanitaria, che cosa hai trovato in Siria? Allora, io in realtà sono partita, vabbè, da Amman, quindi ho fatto Bergamo Amman, in Giordania, e ho attraversato la frontiera. Non è scontato che ti lasciino passare, abbiamo avuto finalmente il visto tramite… Vabbè, insomma, abbiamo avuto questo visto e qualcuno è rimasto fuori dalla Siria, cioè persone che erano con noi. Ecco, intanto vediamo, tra un poco la regia, prego la regia a mandare immagini di Marina, che ci fa vedere quello che è accaduto lì, dove a dieci anni di guerra civile si dovrà provare il dramma di un terremoto. Dodici anni di guerra, che nasce, sì, va bene, come una guerra… Vabbè, mettiamola da parte, la vicenda della guerra civile, ci sarà spazio e tempo per approfondire anche questo terremoto. Esattamente. Terremoto, ci sta aiutando la Siria? Allora, ripercorrendo insomma quelle che sono state le mie tappe di questo lungo viaggio, perché poi alla fine abbiamo affrontato tutto in auto, partendo da Damasco e raggiungendo Aleppo, attraversando la provincia orientale di Idlib, che come sai per adesso è sotto il controllo… No, Idlib è proprio sotto il controllo di frange, di gruppi ancora armati e lì ovviamente c'è l'intervento costante di governo damasceno e Russia che bombardano quelle zone. E allora… Vabbè, bombardano i nuclei terroristi? Sì, perché di fatto sono comunque delle cellule caidiste, ex cellule caidiste. Vabbè, dico, ma al di là, come dire, della guerra civile, perché non abbiamo il tempo né la possibilità di spiegare, ma chi sta aiutando, cioè tu che hai visto, chi li aiuta ai siriani oggi per le nere ferite, un terremoto che ha delle cifre devastanti, probabilmente drammatiche come quelle che sono accadute in Turchia. Allora, io ho avuto la fortuna di aggregarmi a Terdesom, che è questa ONG italiana di origine Svizzera, perché nasce in Svizzera e mi diceva che intanto portano diversi aiuti alla popolazione e subito dopo, proprio all'indomani del terremoto, hanno immediatamente acquistato coperte, kit per bambini, insomma tutto quello che serviva proprio in territorio, cioè in loco. e poi la stessa ONG mi spiegava che anche con un senso di profonda gratitudine, perché poi alla fine i rappresentanti sono proprio del luogo, come Muhammad Ali Aziz che vive a Damasco e mi diceva che gli aiuti immediati sono stati quelli italiani, quindi era un ringraziamento che lui mi rivolgeva sempre. Perdonami però, la domanda è necessaria, aiuti italiani che provengono non da fonti governative, ma da fonti, da fonti come dire, organizzazioni private? Allora, no, allora intanto è chiaro che si sono subito attivati loro, quindi come privati, ovvio, però poi anche il governo italiano aveva inviato, cioè ha inviato e continua a inviare aiuti. Ma di sicuro noi abbiamo mandato pompieri, soccorsi in Turchia, questo diciamo risulta, ma abbiamo mandato anche i nostri contingenti? Sì, a Damasco, da Damasco sì esattamente. Diciamo è stato superato il problema dell'embargo che impediva anche gli aiuti umanitari. Allora c'è un problema, nel senso che vabbè, Damasco poi ha aperto, ha aperto le sue frontiere e proprio gli aiuti. In tutto questo anche le sanzioni che insomma colpiscono la Siria già da anni. Cioè che le sanzioni poi al di là del fatto che sono state interrotte per 180 giorni. Le sanzioni alla fine però, Marina, dal tuo punto di vista, tu sei una giornalista che va molto all'estero, le sanzioni però più che colpire i governi colpiscono molto più duramente le popolazioni. Direi che purtroppo, mi rincresce doverlo dire, ma è così. Cioè colpisce, 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 purtroppo la popolazione, perché chi sta bene, chi sta bene, chi è, non ha problemi, continua a stare bene, anzi benissimo, mentre la popolazione affamata, guarda ti do soltanto un dato, il 90% della popolazione siriana, ultimi dati rilevati il 22 ottobre del 2022, quindi quattro mesi prima del terremoto, registrano un 90% della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà, al di sotto della soglia di povertà. Diciamo che la soglia di povertà non è un buon parametro perché anche in Sicilia non è che siamo messi benissimo, non c'è la guerra, non c'è il terrorismo, non c'è No, non siamo messi bene, però la gente non dorme nelle discariche, in Siria, ad Aleppo ho visto gente dormire nelle discariche, eppure con figli gravemente disabili. Che significa dormire nelle discariche? Allora, dopo il terremoto… Come si fa a finire una discarica? Allora, tu dici, va bene, il terremoto ha devastato, sì, ha devastato, però ha ovviamente provocato morti, si parla di 6500 persone morte, quelle almeno registrate, quelle certificate. E probabilmente sono molti di più perché… Io credo che siano di più, ma in realtà… Beh, a guardare le immagini che tu hai mandato, sembra una catastrofe apocalittica, sembra la terra di nessuno ormai. Sì, no, attenzione, è chiaro che il terremoto ha colpito alcune aree, cioè non ha colpito tutto il paese, quello che ha colpito, e ripeto la parola, il paese è la guerra, e l'ha colpito molto duramente. Io non ho mai visto da nessun'altra parte situazioni del genere, cioè la realtà… Scusa Marina, il terremoto si sovrappone a un dramma che già va avanti da 12 anni. Esattamente. Il colpo di grazia. Il colpo di grazia, ecco, è proprio questo, ho visto un terremoto bellissimo, che poi la collega che è partita con me, la fotoreporter di Milano, Isabella Balena, bravissima, che ha fatto una fotografia riprendendo proprio un minaretto, c'è una moschea, al terremoto di Aleppo, quindi questo sole bellissimo, con tutte le macerie, cioè i palazzi, ma in macerie, ma quella non è che gli ha creato il terremoto, assolutamente no. Cioè, nel terremoto sono crollati diversi palazzi, ma chi ha veramente falciato, sfregiato il volto della Siria è stata la guerra, ed è la guerra. Non bisogna dimenticare che un giorno prima che io andassi a Damasco, da Israele sono arrivati dei missili che hanno colpito proprio un quartiere residenziale della capitale siriana. L'Israele ha bombardato Damasco nei giorni successivi al terremoto, cioè non c'è neanche una tregua di fronte al dramma di una popolazione, le ragioni della guerra sono più forti delle ragioni umanitarie. Sì, esattamente. E questo si chiama senza prendersela né con Israele né con la luce. No, no, assolutamente. E' proprio il genere umano che è proprio ettarlato dentro. E il problema è questo, che ecco, questa guerra non so se avrà mai finita. Ma sai che purtroppo è una storia che si ripercuote nel... quando venne colpita Messina dal famoso terremoto, se non sbaglio, nel 1908, ma questa è la storia, ciò racconta la storia perché molti storici sono andati a recuperare queste carte. L'Austria, con la quale l'Italia aveva un rapporto di alleanza, ma che comunque era un paese che ci odiava, pensò in un certo momento, forse questo è il momento di attaccare l'Italia, perché sono deboli, sono distrutti e forse gli diamo il colpo di grazia. Esattamente. Noi la Cina e le catastrofi naturali diventano probabilmente uno spin, per chi ti vuole aggredire, non anzi una cosa per farci. Il problema è che alla fine chi ne paga le conseguenze carissime sono le persone e la popolazione. I bambini, la situazione dei bambini in Siria. I bambini è un dramma, io veramente, poc'anzi ti stavo dicendo... Hai un sacco di nuclei familiari che hanno bambini. Ma guarda tantissimi, e poc'anzi ti stavo dicendo che quando ho visto Macerie su Macerie, percorrendo anche la M5, la Damascus, Aleppo Highway, che è proprio l'autostrada che collega le due grandi, diciamo, le più grandi città siriane, ti posso dire che nel nostro lungo percorso, circa 500 km, abbiamo visto sempre a destra e a sinistra villaggi, intere città e villaggi fantasma. Credimi, mentre guardavo e osservavo tutto questo, diciamo, mamma mia quanta gente è morta. e allora, siccome ci sono ovviamente sempre dati, cifre relative al numero dei morti in quel paese, e allora, intanto i morti registrati comunque sono circa 500 mila, ma guardando, cioè vedendo quello che ho visto, io poi alla fine ho detto no, non è possibile, cioè qui almeno. Sì, parliamo dei bambini però, cioè quanti orfani ci sono in Sida Supervisore? Allora, quanti orfani è un poco difficile stabilirlo perché anche gli uffici dell'anagrafe sono andati distrutti, questo è per darti proprio l'esempio, uffici anagrafe distrutte del catastro idem, quindi fondamentalmente non puoi tenere un registro di morti, vivi, c'è completamente. Detto questo, la cosa che mi ha colpito profondamente è vedere tutti questi bambini quasi di un monocolore. Cioè che significa monocolore? Monocolore, tutti neri, tutti scuri, sporchi, bambini piccolissimi. Bambini abbandonati, senza tutti i familiari. Bambini piccolissimi che stavano, che giocano, che vivono sulle macerie delle loro case, sulle macerie delle loro abitazioni. E vedi tanti bambini così. Io mi ricordo che quando ci siamo fermati a Dama, che è stata pure colpita dal terremoto, sono morte 43 persone, questo è l'unico centro paradossalmente fra Homs e Aleppo, a non essere stato… Homs è la città sacra degli sci, se non sbaglio. Sì. Allora, c'è un… c'è una… mio Dio… Vabbè, è un dettaglio. Sì, vabbè, in questo momento non mi ricordo. In realtà sì, c'è una località che è meta di pellegrinaggio da parte degli sci. anche dove siamo Homs, eh? Homs… No, adesso non mi ricordo, direi una stupidanza. Allora forse mi confondo. Tra l'altro stiamo andando fuori riga. Sì, vabbè, ritorniamo, riagganciamoci. Vabbè, è la passione per questi paesi mediorientali. Bellissimi, bellissimi, peraltro… Finisco con la digressione, finisco con la digressione. In sostanza, non lo sapevo, ma un archeologo del luogo mi ha detto che proprio a invadere nel Settecento la Sicilia, insomma, il dominio arabo, erano i siriani. Cioè, sono stati i siriani. Siriani e persiani, probabilmente. Perché è un aneddoto che molti fanno finta di sbagliare. A Palermo c'è il percorso arabo-normanno e tutti si basano sulle cose cupolette rosse che ci sono sulle chiese, sopra i sitetti delle nostre chiese. In realtà quella non è l'architettura arabo, quella è l'architettura persiana. Tant'è vero che c'è una scuola di architettura persiana, molto persiana. Insomma, Iran, Siria, siamo in quella zona lì. Sì, assolutamente sì. Non a caso, gli Stati Uniti stanno lì proprio per monitorare le situazioni Iran. Vabbè, gli Stati Uniti stanno pure qui comunque. Gli Stati Uniti stanno dappertutto, Marina, non stanno soltanto qui. No, dico, vogliono monitorare, insomma. Va bene, detto questo… Vabbè, abbiamo trascinato in sfoggio di cultura, ci stanno prendendo a pernacchie all'altro lato del tubo catodico, dello schermo piatto. No, vabbè. Dai, raccontiamo il dramma dei filiani. Io volevo comunque soffermarli. Anche perché, diciamo, la tua testimonianza è importante, Marina. Volevo soffermarli su questa cosa, vedere i bambini giocare, comunque stare sempre nella polvere, nelle macerie e non dimenticare che purtroppo anche ad Aleppo si è diffuso pure il colera. Quindi tre mesi prima che si verificasse il cataclisma del 6 febbraio scorso, purtroppo già 5.000 casi di colera erano presenti ad Aleppo. Quando sono arrivata io, ovviamente mi chiesi, ma insomma, adesso com'è la situazione? E mi spiegavano. La nostra preoccupazione, me lo dicevano gli operatori umanitari, la nostra preoccupazione è che con il fatto che ormai la gente vive tutta siepata all'interno delle scuole, quindi tu vedevi in un'aula 20 persone, 20 persone. La diffusione di una malattia è molto più semplice, anche perché immagino che non esista nessun servizio, c'è reti idriche, ma non manda mille punti, distrutte, reti fognarie, reti idriche. La difficoltà del giornalista a operare in queste zone di guerra, tu avevi, come dire, chiaramente lavoravi a seguito di un'organizzazione umanitaria, ma per esempio avevi la connessione internet, c'era una procedura di sicurezza nel caso in cui qualcosa andasse storto? Allora, per fortuna, diciamo, l'organizzazione non era perfetta. Chiaro che la rete internet, essendoci l'elettricità un'ora al giorno in tutto il paese, e la gente rimedia con generatori di corrente, però ovviamente in questi dei metti il gasolio, il gasolio lo puoi tenere soltanto 50 litri di gasolio nei mesi invernali e basta. Quindi una volta finiti quelli, ovviamente la gente si rivolge al mercato nero. E a proposito del mercato nero, poi vorrei fare una piccola digressione, ma finisco questo discorso. E allora, come facevo con la rete internet, non era facile. La notte, magari quando andavi in hotel... Ma non per avere internet, per restare così sul pezzo, per mandare i tuoi servizi... Esatto, quelli li scrivevo in auto, oppure direttamente la notte, quando poi finalmente, insomma, dopo aver visitato i luoghi, parlato con la gente, raccolto le testimonianze veramente drammatiche. Cioè io a un certo punto, non mi vergogno di dirlo, al telefono con una collega che ero riuscita a raggiungere, insomma, mentre mi trovavo in quella scuola dove ci stavano 500 persone assiepate proprio. E anzi loro se la passavano bene, rispetto a quelli che invece ho visto nella discarica di Aleppo, con la ragazzina disabile grave sulla sedia a rotelle, perché non poteva stare con altre persone in quanto gravemente disabile. E quindi questo avrebbe comportato un disagio sia alla bambina che ovviamente anche alla gente. Quindi era in discarica. Stiamo parlando di persone che appartenevano a quella che è la media alta borghesia di Aleppo. E ti posso dire pure che la Siria era un paese molto fiorente, ricco, ricchissimo, prima della guerra e francamente dopo tutto quello che ho visto, la miseria nera, la gente non c'è niente da mangiare, non c'è niente. Marina dai, chiudiamo, io direi di chiudere questo capitolo sulla Siria, vorrei parlare un attimino di te, insomma, ora che hai fatto questa missione in Ucraina, una missione. Siamo a cambiare argomento. No, è invece un argomento interessante perché ci si ascolta già, è la tua terza presenza, qui se non sbaglio, la seconda. No, è la seconda. La seconda e quindi, secondo te, la prossima apparizione, la tua prossima presenza, dove? Di cosa ci parlerai, secondo te? Che cosa stai programmando? Allora, innanzitutto ti posso dire che essere andata in Siria... Non fuggire alla domanda. No, 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 ti sto... Dopo la Siria, che cosa... Ti sto rispondendo, io ho detto, viste le difficoltà di raggiungere questo paese, cioè quasi impossibile. Vorresti ritornare. È chiaro che ci vorrei ritornare, non so se sarà possibile, io ci tornerei anche domani, nel senso che comunque il mio cuore è rimasto là, perché ci sono tante cose che abbiamo in comune con questa popolazione, con questo paese, e poi la gente così calorosa, molto amichevole, cioè friendly, Nonostante tu. No, guarda, una cosa incredibile, cioè pensa tu che l'ultimo giorno, quando stavo per ripartire per Amman, a Damasco, avevamo comprato qualcosa da portare via, insomma da mangiare, e insomma vado per risalire in auto, è un signore, un arabo, che è una persona che non ho mai visto. Arabo? Sì, un arabo. Un arabo, ci facevamo un arabo in Siria. Piena di arabi in Siria, ci sono varie le popolazioni, le etnie, è proprio un melting pot di razze diverse. E allora mi apre lo sportello dell'auto, cioè sono rimasta così, proprio un senso di galanteria, di gentilezza, cioè una cosa che mi aspetta. Un gentleman d'altri tempi. Incredibile, ma mica mi conosceva. Tra le macerie della Siria, rimane sempre la cante. Sì, sì, persone veramente molto di cuore. Esattamente come per le vie di Palermo, quando ti capita, quando cammini con lo scooter, i uomini, i gentilutri lasciano passare, con le corne. Sì, con le corne, oppure ti inseguono, oppure ti maledicono, solo perché ti sei fermata all'arancione. va bene Marina, allora è tempo a nostra disposizione. Papera, papera ci sta sempre una paparetta qui a Torco Sicilia. È finito. Io ti ringrazio per le testimonianze che tu raccogli, soprattutto nell'aria. ringrazio il blog. Marina, un saluto a chi ci segue, dai. E anche agli spettatori. In realtà, ecco, spererei che la mia testimonianza, che c'è pur breve, perché ci sarebbe da raccontare tantissimo, possa finalmente sensibilizzare la nostra opinione pubblica, quindi locale, nazionale, perché effettivamente è un paese completamente dimenticato. E poi però ce ne ricordiamo, per mezzo secondo, per quella mezz'oretta, quando vengono a morire, nelle nostre spiagge, nel nostro mare, che è poi lo stesso mare, perché è mediterraneo e mediterraneo orientale, dunque lo stesso mare. Questa è una riflessione molto intelligente e molto precisa Marina, grazie. Figurati, volevo anche... Quindi gli altri che arrivano sulle spiagge, molto spesso sfuggono da situazioni come queste. No, sfuggono proprio da queste. Sì, dal fronte da Qutro erano tutti afghani, non è che sfuggivano... Afghani e c'erano anche siriani. C'erano siriani. E voglio dire, l'ultima volta, insomma, un amico proprio siriano, mi ha detto, sai Marina, alcuni di quelli che hanno avuto il naufragio vicino a Lampedusa, venivano proprio da Afrin. Eh va bene. Marina, grazie. Grazie a voi. Sono sicuro che ci rivedremo presto con Marina Pupella qui a Torco Sicilia. Un ringraziamento ancora l'ennesimo a Marina per il lavoro che svolge. E io agli spettatori e... E un saluto a chi ci ha seguito. Arrivederci alla prossima puntata di Torco Sicilia. E un saluto a chi ci ha seguito. 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 E un saluto a chi ci ha seguito.